Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel romanzo storico dal titolo Delitti nel monastero di Arco, crimini sulle tracce dell'eresia medievale di Tea Vergani, che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite, appena pubblicato da Reverdito Editore. Quindi io, come mia abitudine, lascio subito la parola all'autrice perché ci parli di questi delitti. Grazie, molto bene. Allora, intanto sono un'appassionata di storia medievale come dilettante, ovviamente, perché i miei studi erano rivolti più all'economia e al turismo, però è sempre stata una mia grandissima passione, come penso anche per tanti italiani. Periodo storico che ho seguito personalmente, così, leggendo libri dei principali autori, quelli che anche voi proponete sul vostro sito e che tutti conoscono, i principali, Cardini, Legoff, queste cose. Poi un giorno è successo una cosa, il Covid. E col Covid io mi sono iscritta a un seminario online di un grande archeologo e medievista trentino, Carlo Andrea Postinger, che ha fatto un lungo seminario sui reietti, i dannati del Medioevo, cioè quelle figure che erano considerate eretiche dalla chiesa cattolica, quando la religione cattolica permeava tutta la vita quotidiana anche delle persone umili, dei ricchi ma anche delle persone umili. E da questo studio è nata l'idea di un giallo ambientato in quel periodo storico più interessante per il territorio dove sono arrivata ad abitare. Perché della mia biografia dico solo che sono un milanese, si sentirà immagino dalle mie vocali, esatto, aperte, la macchinetta, la fabbrichetta, eccetera. E invece adesso mi sono naturalizzata ad Arco, a nord del lago di Garda, trentino. Qui ho studiato la storia locale, perché abito esattamente sotto il castello medievale di Arco, meraviglioso, che ha avuto una strana importanza nel Medioevo perché questo territorio è stato a lungo una cuscinetto, diciamo, tra i regni del nord, la Germania in particolare, e i regni del sud, il Tirolo per intenderci, e la Germania del sud. Quindi è una zona dove sono avvenuti molti conflitti. Io ho deciso di ambientare il mio giallo qui basando un giallo medievale in cui un monaco nel 1206 sta in questa grotta su una falesia, perché Arco è una località dove di arrampicatori, di Kleinberg praticamente, di alpinisti. Nel 1206 l'eremita viene messo in questa grotta dallo zio Abate, Lanfranco, per espiare una colpa perché è un eretico bolognese. Quindi da questa eresia di questo monaco, che sa però miniare molto bene e usare i gioielli anche molto bene per il passato della sua famiglia, che sono gli orefici, fino al 1210, in cinque anni, lui, l'eretico, subisce una trasformazione religiosa, in un certo senso, mentre attorno a lui nel territorio capita di tutto, perché c'era Ottone IV di Brunswick, detto leone, che voleva da re della Germania diventare anche imperatore del Sacro Romano Impero, mentre Papa Innocenzo III, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. È un periodo molto particolare, perché in cinque anni il Papa lo nomina, poi lo scomunica, quindi cose grosse anche per l'epoca, non solo per noi posteri. Quindi veramente un periodo che qua è stato frizzante, diciamo, anche perché i conti d'arco, che all'epoca non erano conti, erano solo nobili, ma comunque parteggiavano per Ottone IV di Brunswick in realtà, però non volevano neanche inimicarsi il principe Vanga, che era vescovo di Trento, perché qui era zona della pieve di Trento, arcivescovile di Trento. In Trentino ricordo che c'è stato per un lungo periodo, per molti secoli, un vescovo principe, quindi un nobile, una famiglia nobile, sceglieva una persona che veniva poi nominata dal Papa vescovo, purché fosse celibe senza figli, diciamo, anche se poi furono trovate comunque degli escamotage per nominare anche delle persone sposate con figli, vabbè, vabbè, queste cose che accadevano all'epoca e accadono, immagino, sempre ancora in tante altre parti del mondo dove c'è un problema di trasmettere, diciamo, l'asseggio, la papale o arcivescovile a qualcuno o vescovile a qualcuno. Ma non mi è bastato scrivere questo giallo all'epoca, l'ho voluto integrare da un proseguimento ai giorni nostri, per cui nel libro è scritto tutto a capitoli alternati, un capitolo nel Medioevo e un capitolo ai giorni nostri dove nella stessa grotta viene trovato da un alpinista un reperto particolare generando altri crimini quotidiani, diciamo, odierni, che verranno risolti da tre anziane, chiamiamole pettegole del paese, e un maresciallo dei carabinieri, perché, ahimè, in Italia sono caduta anch'io nel cliché che ci vuole un maresciallo dei carabinieri per risolvere tutto, anche se non siamo in Alto Adige e quindi non c'entra Terence Hill. È un maresciallo dei carabinieri e non della polizia, quindi una cosa particolare. E questo è tutto. Quindi il mio editore ha creduto molto in questo progetto, anche se, come dire, leggere un capitolo nel Medioevo, un capitolo ai giorni nostri, non è per qualsiasi lettore. Ci vuole qualcuno che ami anche la storia. Tutti i luoghi, tutta la storia è esattamente reale. tanto che ho sottoposto il libro alla valutazione del medievista Massimo Postinger, professor Postinger, mi ha confermato che tutto quello che ho descritto, ogni battaglia, ogni anche creazione illusoria dell'epoca, è assolutamente realistica e storica proprio. Dopo, vabbè, è sempre un libro di fantasia, naturalmente. E questo è quanto. Il mio progetto è questo. Adesso sono contenta perché sta ricevendo tantissimi apprezzamenti qua, i giornali, le televisioni locali. Diciamo che ho una fama locale in Trentino per il momento, però chissà mai. È uscito da due settimane il libro, quindi è fresco. E' interessante, no? Sicuramente anche l'idea di intercalare Medioevo e Contemporaneità è abbastanza particolare e avvincente. Quindi io devo ricordarne il titolo in modo tale che possano comprarlo e farne una bella strana natalizia. E il titolo è Delitti nel monastero di Arco, crimini sulle tracce dell'eresia medievale, appena pubblicato da Reverdito Editore, di Thea Vergani, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite e che ce ne ha parlato, anche se in maniera molto sintetica. Ebbene, non volevo spoilerare raccontando di più, ma è chiaro che qua c'è tutto. C'è la tempesta vaia, ci sono tutti gli elementi anche realistici del presente, ma non posso raccontare la trama, sennò non comprano più. Soprattutto di un giallo, no? Magari sono i due teori, no? Esatto, esatto. Se volete vi descrivo tutta la situazione tra Ottone e Papa Innocenzo, però insomma lo sapete meglio di me, siete più medievisti di me voi. Quindi, che devo dirvi, vi spiego, io che spiego a voi il Medioevo, ma per carità. Va bene, allora io per il momento la ringrazio tantissimo e ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovate tutte le nostre video presentazioni, compresa quest'ultima. e la ringrazio ancora tanto per aver accettato il nostro invito. Sono io che ringrazio tanto voi e auguro a tutti buone letture e buone feste, visto che il Natale si sta avvicinando. Felpato, ma si sta avvicinando. Grazie. Grazie.